buongiorno sono Agata di Dio sono un urologo e andrologo siciliano era la seconda volta che mi sono lavata col professor Antonini con questa tecnica infrapubblica io di solito eseguito sempre interventi di impianti per via penosclotare e devo riconoscere che questa tecnica è veramente innovativa da tanti punti di vista uno perché l'incisione chirurgica è veramente molto minima rispetto a quella dell'accesso penosclotale e poi devo dire che i tempi chirurgici sono veramente molto molto brevi per cui sia da un punto di vista del paziente stesso ma anche del chirurgo operatore che deve essere naturalmente esperto è una tecnica di sicuro superiore alla per non sclotare